Mi serve Max, una persona che conosce di denti, però non è un dentista. Tu ne conosci di denti? Sì, ma non sono un dentista. Vado a vedere alcune fotografie. Questo è un sito web pubblico. Sono dei bei sorrisi questi? Sì, sono dei bei casi. Questo è un bel caso. Ok, che ne capisce uno come Max? L'occhio esperto di un dentista vede che qui sotto c'è questa zona scura, l'osso che si sta riassorbendo. Hanno tolto l'impianto, rimesso un altro impianto, dove l'osso non è guarito. Sì. È un buon lavoro? Mi sembra un po'... o non mi sembra un buon lavoro. Io non sono un dentista, però a me non mi sembra un buon lavoro. Questa punta qui dove dovrebbe chiudere la capsula. La capsula si trova a mezzo centimetro più in alto. Sì, zona di vuoto praticamente. Di vuoto. Stessa cosa qui. Qua sigilla da questa parte la capsula. Tra qua e qui c'è spazio e si va al cibo. Però è un bel sorriso. Però non è sano. Qua sarebbe stato da innestare osso e mettere l'impianto dritto. Questo dente qua si spezzerà. Perché è più facile senza avere qualcosa che lo sorregge, che si distrugge col tempo. L'impianto finisce qua, ma la capsula inizia qui. Vedi che c'è un gap di un millimetro e mezzo. Sì. Come se tu avessi un cappello largo così. Sì. Si entrano gli spifferi sotto. Questi sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, undici, dodici denti. Con l'anima interna che è questa bianca. Sopra c'è la ceramica, questo grigio qua. Quando la vai a cuocere a più di mille gradi, il metallo... Sì, di là. Poi quando raffredda, storce. Quando lo metti sopra gli impianti standard, con abatement standard, che non sono passivi, ma sono belli lunghi, non calza. A te sembra che qua stia calzata. La testa sta a destra, il cappello a sinistra. Non è simmetrico. Guarda qua, quanto ha storto il metallo. Neanche entrato. Questo sta appena appoggiato sull'impianto. Magari anche lavarseli, tenerseli ben puliti. Guarda sotto, vedi che l'hanno tagliato in tre blocchi. Uno, due, tre. Sì, sono tre blocchi, tre ponti. Perché? Perché sotto proprio non calzava. Alla Frankenstein, insomma, sbrighiamoci. Sono stati un po' di fretta, sono andati. Poi qua, impianti lunghi, impianti corti. Qua non hanno fatto guarire la cisti, non l'hanno neanche tolta. Quando invece quest'impianto sarebbe stato da mettere qua. Quando mastica, secondo te, il torrone qua, dove si spacca? Sopra o sotto? Si spacca sotto, ovviamente. Bugia, anche sopra. Sopra non sta sull'abatment. Qua si romperà anche l'abatment. Si distrugge tutto. E chi chiamerai? Gli acchiappa fantasmi. Ma i multi unit abatment, che si usano per le riabilitazioni complete, sono questi tronchi di cono, che quando metto la protesi fa paff, paff, scende perfettamente. Sono passivi, non sono lunghi, attivi e limati in bocca. Calzano. C'è un dentista, per esempio, questi sembrano dei bei denti. Vado a vedere, per renderli paralleli, praticamente vengono limati a schifo. Non c'è precisione. Io ti ricordo che sull'abatment serve una precisione di 12 micron. Come un tuo cappello può essere l'imprecisione. Le protesi non calzano. Oltre che, se tu noti, sono divergenti. Sono così. Come fa a calzare una protesi? Devi limare. Ma anche misure un poco diverse. Cioè, a me non mi sembra di vedere. Ma non c'è precisione qua. E quindi il lavoro protesico che vai a mettere, guarda, è divergente. L'hanno dovuto tagliare a metà per far entrare. Sì. Te lo faresti fare tu questa roba in bocca? No. A tua mamma gliela faresti fare? No. Perché no? Perché... Ma se vuole risparmiare tua mamma? Meglio risparmiare, ma con materiali decenti, insomma. Non è tutto un discorso di economia qua. Questo è stato limato. Con la fresa in bocca la gengiva non è. Non sta tanto bene. Guarda i taglietti che ha qua la gengiva. Questo è come dovrebbe essere un impianto standard fresato. Vedi che è lucido, lucido. È pulito. Sì. Guarda questo com'è bello freddo. Bello pulito. Cioè, metti poi il dente sopra e quello fa poff. Scende bene. Scende a pennello, insomma. Vedi, delle volte l'inserzione dell'impianto non è parallela agli altri denti. Gli impianti si mettono lì dove sta l'osso. Poi va limato e reso parallelo assieme agli altri impianti. Perché poi se gli impianti sono divergenti, la struttura che va montata per unire gli impianti deve calzare. Se non calza non ha senso. È come quello di prima che era quasi appoggiato. O viene tagliata poi in pezzi per farla calzare. Qua manca proprio l'ABC della protesi. Sì, non c'è niente. Sì, il paziente alla fine, bello ignorante com'è, vedrà i denti. Ma sotto c'è una schifezza. Bisogna farsi prima una cultura riguardo a questo tipo di denti. Questo sembra un bel sorriso. Il problema è che la distanza tra questo impianto e questo impianto è un chilometro. Primo morso al cibo duro che darà il paziente. Qua in mezzo si rompe. Si distruggono in mezzo, che è vuoto. Si spacca. Per di più un lavoro questo in zirconio. Un bel sorriso. Sembra di sì. Avrà risparmiato. Ha fatto i denti in zirconio, belli costosi. In zirconio, costosi. Peccato che manca l'ABC della odontoiatria qua. Questi sono impianti dentali. Queste quattro in mezzo, una, due, tre, quattro, sono radici naturali. Non puoi mai unire impianti dentali con radici naturali. Le radici naturali hanno un ammortizzatore. Si chiama legamento parodontale, che fa flettere i denti. Gli impianti non sono fissi nell'osso. Dove si rompe se questo flette? Si rompe lì, ovviamente. Si rompe? E questo è il zirconio. Il zirconio è come il vetro, è fragile. Perché hanno fatto sto lavoro? O perché il dentista non lo sa? O perché è per sbrigarsi? In qualche modo non saprei, guarda. Tu te lo faresti fare questo lavoro così? No, assolutamente no. Però è un bel sorriso. È un bel sorriso? Ma quanto dura? Si. Cosa vedi qua di strano? Ora che ti ho insegnato un po' di cose. Beh, a parte che è tutto un po' asimmetrico. Quella parte centrale in basso è ovviamente al rischio di rottura. Ne sai quasi più di me adesso, Max. Serve avere delle conoscenze, ma applicarle ogni giorno sui propri pazienti. Nelle riabilitazioni complete, invece di avere questi abatment lunghi che fuoriescono, bisogna avere dei coni corti dove la protesi si avvita. Vedi che all'interno ha delle doccette che sono... Delle coppette sono. Queste coppette vanno praticamente a avvitarsi in maniera passiva. Fa tac e devi solo stringere le viti. Questi sono dei multi-unit abatment che servono a correggere i gradi di inclinazione degli impianti nell'osso. Allora monti questi sugli impianti e ti appaiono così in bocca. E si fa tac. Fai tac e stringi. Questi sono degli abatment che si usano quando devi mettere un solo dente, quando ne devi mettere un ponte di tre denti. Ma quando hai tanti impianti che sono divergenti, se non usi degli abatment passivi come questi, quello che succede poi è questo, che dopo che cuoci i denti con il metallo all'interno, quelli distorcono e non calzano più. Non calzano più. Unico modo che hai per farli entrare come hanno fatto sotto, tagliare il lavoro a pezzi. Questi per esempio sono dei multi-unit abatment. Anche se gli impianti sono storti, sopra gli impianti sono stati montati questi compensatori di inclinazione, chiamiamoli così. Sono dei compensatori di inclinazione. L'impianto può anche essere storto, ma sopra c'è questo sistema qui che serve a correggere le inclinazioni degli impianti. Gli impianti possono anche essere storti, ma sopra se si montano i compensatori, che li mette a livello. Che li mette a livello. Sono tutti paralleli quando vai a montare il lavoro. Ce ne sono di tanti tipi, ci sono da 30 gradi, 35, da 20 gradi, da 15 gradi. Va selezionato, va selezionato. Vedi, per esempio, questa è la classica tecnica di Olonfor. Davanti metti questi piattelli, dietro metti il MUA che corregge l'inclinazione dell'impianto inclinato e a quel punto puoi montare sopra la protesi passiva. Questo è un lavoro brutto, dai. Le parti in basso sono veramente distanti. Potevi mettere impianti qua. Soprattutto nella parte centrale non capisco perché non hanno messo almeno due impianti nella parte centrale e un impianto. E qua? Poi è un po' più storto rispetto a... Qua non è sceso il dente. No, non è sceso. E sono cose che non ci fai caso, giustamente. Perché? Perché sei ignorante. Perché sei ignorante. Perché ti chiami Max. Grazie, la sua vittima preferita comunque. No, scherzo. Max e gli vogliamo un bene dell'anima a tutto l'ufficio. Però non sa niente di denti. Però, no, io le cose sui denti le so, ma non sono un dentista. Non sei tecnico. Non riuscivo a dirle tutte queste cose tecniche. Vi raccomando, occhio a non farvi mettere le mani in bocca da persone che cercano di attirarvi con prezzi bassi, di farvi risparmiare. Fare il turismo dentale si può. È sicuro se viene fatto con criterio, con scienza, con scienza e conoscenza di quelli che sono i materiali e i protocolli da adottare. Adesso vedremo nel dettaglio qual è la differenza tra impianti dentali standard e premium. A posto.